E' arrivato il momento di svappare, svappo me! Sindaco, questa mattina sono stato al Canada Cioffi, ho parlato con il Presidente Ricci, tanti lavori in corso, sicurezza, accoglienza soprattutto che stiamo cercando di accogliere come siamo stati noi accolti lì in Sicilia. Il suo impegno, ci siamo riusciti a fare aumentare la capienza? Sì, io l'ho detto in altre interviste, che il nostro scopo era quello, attraverso queste problematiche che si sono succedute sul campo sportivo negli ultimi 20 giorni, di mettere a frutto anche una strategia per mettere a posto definitivamente il campo sportivo. Abbiamo realizzato già dei lavori relativi alle prescrizioni che ci erano state impartite, sono state realizzate, abbiamo ricevuto anche i complimenti da parte dei vigili del fuoco dell'ASL ed è aumentato anche il numero della capienza. Si riapre il settore ospiti e quindi noi potremo ospitare anche il pubblico delle squadre avversarie già da sabato prossimo per 200 unità, mentre il pubblico di casa il numero viene portato a 1.100 persone. stanno adesso verbalizzando, per cui tutto questo riede un po' in quelle che erano le nostre aspettative. Adesso ci accingiamo a presentare il progetto e la scia per ottenere anche la prevenzione di incendi in maniera tale che ci mettiamo in carreggiata per stare a posto in tutti i sensi con quella struttura sportiva. Grazie.